Sono qui a casa Milan per questo video di vigilia del match che tutti attendiamo. Si parla di una semifinale di Coppa Italia, si parla di Milan Inter, partita di andata, l'altra il 20 aprile. Ha parlato Stefano Pioli, allenamento oggi pomeriggio, poi alla fine di questo video vi dirò le mie ipotesi per quello che riguarda la formazione. La conferenza stampa di Stefano Pioli, prima di commentarla io direi di sentire Stefano Pioli, ma prima ancora volevo ricordarvi che sono usciti gli orari delle prossime due partite del Milan. Parliamo di Milan-Empoli e parliamo del match tra il Cagliari e il Milan, tutte e due il sabato sera, quindi 12 marzo, 19 marzo. Sono molto contento, quindi si va sabato sera a Cagliari e si rientra la mattina, quindi una trasferta, è sempre una festa andare in Sardegna, andare a Cagliari, poetto e soprattutto la partita che poi è la cosa fondamentale. Ma parliamo di questo Milan-Inter, ma prima di parlare di Milan-Inter sentiamo Stefano Pioli. È un piacere ricevere le vostre domande, nel senso che si vede che abbiamo già affrontato periodi così importanti, così pieni di partite pesanti, perché non è la prima volta che mi hai fatto questa domanda. Quindi ogni volta è una partita molto importante sicuramente, questa sarà una settimana molto importante, ma che comunque non deciderà le nostre sorti. Non credo né in Coppa Italia, perché ci sarà una partita di ritorno e nemmeno in campionato, perché chiaramente la partita di Napoli di domenica è molto importante, ma mancando poi dopo successivamente dieci partite ci sarà ancora spazio per fare bene. Tonale fa parte del gioco, con una squalifica ci sta, chiaro che è un giocatore importante, ma abbiamo altre risorse e le utilizzeremo al meglio. Assolutamente sì, credo che invece noi in questo momento abbiamo bisogno di queste partite e quindi sono convinto che avremo l'adrenalina giusta, la carica giusta, come sicuramente vanno i nostri avversari, ma noi dobbiamo contare molto sulle nostre caratteristiche, e molto sul nostro modo di giocare, è giocare una partita sicuramente coraggiosa e sicuramente forte. I miei giocatori devono essere convinti perché hanno dimostrato di avere grande qualità, grande caratteristiche, anche grande mentalità, perché se siamo da un anno e mezzo nelle posizioni di vertice significa che siamo tornati a essere competitivi, significa che possiamo giocarci ogni singola partita per cercare di vincere. Poi ripeto, noi dobbiamo pensare a fare molto bene, a dare il massimo, a dare il meglio ogni istante, ogni singola partita, e poi dopo il campionato è ancora lungo, ma adesso siamo concentrati molto sulla partita di domani. No, no, è stata una questione di atteggiamento perché ci siamo abbassati troppo e non siamo stati così aggressivi con gli attaccanti sul giro paleudinese. Quando ti abbassi, poi dopo, poi se i palloni arrivano nella tua area rischi anche di subire delle situazioni pericolose. Dopo che abbiamo subito il pareggio, siamo ripartiti, abbiamo creato l'occasione, ma non siamo riusciti a vincere la partita. Quindi è solamente un atteggiamento mentale che deve essere più continuo, deve essere più aggressivo, assolutamente nella fase di non possesso pallo. Innanzitutto vi faccio i complimenti perché avete una memoria incredibile su tutte le cose che... Era calcisticamente interessante questa cosa. È giustissimo. Credo che è una crescita che la squadra sta cercando di sviluppare perché credo che è sicuramente la nostra forza andare molto forte, giocare con molto ritmo, questo sì. Ma è altrettanto vero che ci sono dei momenti della partita dove è anche giusto, è anche giusto gestire meglio la palla con più semplicità, ma senza smettere di guardare avanti e di pensare di andare ad attaccare. E in quello noi dobbiamo sicuramente crescere, dobbiamo sicuramente fare meglio. Perché è chiaro che ci sono situazioni, soprattutto quando gli avversari non ci vengono ad aggredire, non ci vengono ad aspettare, che bisogna girare la palla più velocemente, più facilmente, più semplicemente, anche per addommentare, tra virgolette, un po' la partita. Ma addommentare la partita non significa smettere di pensare di poter far male agli avversari, di pensare di poter guardare avanti, di avere giocatori che attacchino continuamente la profondità. Questo è un atteggiamento che dobbiamo sicuramente migliorare. Ho fatto le mie valutazioni durante le partite, sia per la formazione iniziale, sia per i cambi dei quali pensavo avessero bisogno della squadra. Non ho utilizzato Rade perché non era dentro quelle valutazioni lì, ma gode assolutamente della mia stima e della mia fiducia. È un giocatore molto intelligente, sa occupare più posizioni, è un giocatore disponibile anche per giocare domani. E' chiaro che è un'altra competizione, è una partita che durerà 180 minuti, ma è vero che è sempre un derby. Il derby ti porta a tante emozioni, tanti sviluppi anche dal punto di vista dell'umore. Sicuramente fare bene domani sarebbe importante per entrambi le situazioni, per cercare di superare questo turno e andare in finale Coppa Italia, per cercare di acquistare ancora più fiducia e ancora più entusiasmo per il finale del campionato. Non ha mai fatto parte della nostra mentalità, non credo che stia succedendo questo. Credo che siamo, nelle ultime due prestazioni, siamo calati dal punto di vista della qualità tecnica e del ritmo di gioco. E questo fa sì che poi dopo anche tutte le qualità singole vengano allo stesso tempo non sviluppate al massimo delle proprie potenzialità. Ma siamo una squadra che gioca di squadra, non sicuramente che gioca col singolo, che cerchiamo di sfruttare anche le caratteristiche singole, questo assolutamente sì, perché abbiamo dei giocatori forti che vanno sicuramente sfruttati, ma quello che dice Sacchi è sicuramente giusto. Non lo so. Max credo che sia molto bravo, in matematica ero abbastanza bravo anch'io a scuola, ma credo che io continuo a pensare, l'ho sempre pensato, che le prime cinque squadre del campionato che sono al momento in testa della classifica continuino a giocarsi lo scudetto e le prime quattro posizioni per la Champions. Questo sicuramente sì, perché 33 punti di disposizione sono tanti e per vincere lo scudetto bisogna farne tanti. Poi quanti serviranno? Non lo so, perché come avete visto nelle scorse settimane tutti pensavano che le squadre davanti facessero molti più punti e poi quasi tutte, tranne il Napoli, il Napoli è l'unica squadra dopo la sosta di Natale che ha fatto più punti di noi, quindi tranne il Napoli tutti hanno avalentato, quindi dipenderà poi le ultime undici partite. Il campionato è molto difficile in questo momento perché affrontare squadre Cagliari, Torino, Verona, Fiorentina, Sassuola, Empoli, tutte sono partite molto difficili come lo stanno dimostrando, quindi è difficile fare una tabella, da tanti punti sicuramente, sicuramente più di 80, questo è sicuro. Sta un pochettino meglio, non lo so, per Napoli non lo so, è da vedere, lui è veramente da valutare, da analizzare giorno per giorno come va il suo processo di crescita, come stanno, come le sue condizioni, quindi in questo momento non te lo so dire. Buongiorno Stefano, io uso spesso la metafora del caffè, diventa difficile fare domande a lei in questo momento, perché? Perché quando lei va a mangiare in un ristorante mangia benissimo, ma se il caffè è amaro, si ricorda e dice ma non ho mangiato benissimo, il caffè amaro è Salernitana e Udine, ma il dessert è la partita più bella di quest'anno secondo me insieme a quella della Roma, quella con la Lazio, che non è di un anno fa, è di 20 giorni fa. Non diventa anche per lei frustrante quando le portano il caffè, non sapere perché non se l'aspettava la prestazione di Udine e di Salerno e come si può risolvere questa cosa, perché in questo momento Udine e Salerno non se le aspettava così. E dunque? Si può risolvere, credo come abbiamo fatto noi, cercando di analizzare con molta lucidità le cose che non ci sono riuscite in queste due partite e cercare di mettere in pratica subito quello che sappiamo fare nella partita di domani e nella prossima partita di domenica. Ce la si può fare? E' certo. Queste dunque le parole dell'allenatore del Milan. Molto calmo, molto sereno, molto conscio del lavoro che lo aspetta, anche eccitato un po' da questo momento importante anche per la sua carriera. Il titolo è Ci manca lo step, tra squadra brava, competitiva, importante e squadra vincente. Mi sembra questo il titolo, ci manca l'ultimo step. E sono d'accordo con Stefano Pioli, questa squadra è migliorata molto in continuità. E poi gli ho proprio fatto la domanda, ma come si può capire di evitare queste partite lavorando, dice lui. C'è da dire che questo mio commento, la partita con la Salernitana poteva essere una parentesi, ma non mi aspettavo la ricaduta, una parentesi, una caduta, perché alla parita... Io parlo sempre di prestazioni, non parlo mai di risultati, non parlo mai di arbitri. È chiaro che il Milan, lo ribattiamo, avrebbe sei punti in più, meriterebbe sei punti in più per le decisioni dell'arbitro che sono state, diciamo, sfortunate, diciamo, non diciamo altro. Però io guardo la prestazione, perché con la prestazione si va oltre qualsiasi arbitraggio, si va oltre qualsiasi sfortuna. La bella prestazione evita ogni problema. La bella prestazione c'è stata contro lo Spezia e lì abbiamo trovato Provedel e la sfortuna di Serra. Non c'è stata la bella prestazione contro l'Udinese, anche se senza quel gol segnato con la mano, il Milan avrebbe vinto la partita. Ma giocando bene superi queste cose. Vediamo allora chi potrà giocare bene domani contro l'Inter. L'allenamento è oggi, però io ipotizzo pochi cambiamenti. Un cambio obbligato è quello di Tonali, è squalificato. Un Tonali che questa settimana, un'altra bella settimana senza giocare tre partite, non gli fa che bene. L'ho rivisto ieri. Corre generoso, ma poco brillante e lucido. La brillantezza e la lucidità è quella che manca in questo momento a Tonali. E giocherà a Chessy. Chessy l'ha difeso, l'avete sentito. Ha detto sul piano del gioco a me Chessy non dispiace, ha detto l'allenatore Pioli. Quindi io, secondo me, senza Chessy il Milan soffre. Non è il Chessy devastante dell'anno scorso e su questo piove. Non ci piove. Ma abbiamo bisogno, la sua fisicità in questo momento rimane fondamentale. La grande novità, e lascio il solito dubbio, la grande novità è Krunic al posto di Diaz, che già nel derby di andata aveva sparigliato le carte. Lascio il solito dubbio Messias-Selemeker. Chi dei due non lo so. Io personalmente faccio il tifo per Selemeker, anche se avendo già Krunic probabilmente metterà Messias. Dico Selemeker perché ne ha parlato, avete sentito l'opinione su Selemeker. Giocatore che deve migliorare sul piano tecnico, ha detto. Gli lascia qualche dubbio sul piano tecnico, ha detto Stefano Pioli. Io lascio ovviamente la decisione all'allenatore del Milan, ma per quello che mi riguarda mi dà qualche vibrazione in più. L'ho visto entrare sempre, magari, ecco, lì c'è la frenesia, ma trovo che sia una frenesia positiva. Però lasciamo la decisione a Stefano Pioli. Quindi questi sono i temi della conferenza stampa. Quindi si va verso questa formazione. Megnan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Teo Hernandez. Chessi Benasser, che è la coppia che ci ha portato in alto negli ultimi anni, prima dell'esplosione di Tonali quest'anno. E per quello che riguarda la davanti Messias o Selemeker, Krunic, che probabilmente sarà l'uomo destinato a dare una guardata particolare a Brozovic, come ha fatto Kessi nel derby finito 2-1 per il Milan. A sinistra Leao e davanti uno Giroud, che quando sente aria di derby si scatena. Lui è abituato ai derby tra Arsenal e Tottenham, anche se non ha giocato un altro derby carichissimo. Nîm Montpellier. Vi assicuro, sono due squadre che magari vi diranno poco, ma è un derby tremendo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate, attivate la campanella. Un saluto.